Dario e Filippo Massai, di 15 e 17 anni, sono scomparsi da Rezzo oltre otto mesi fa. I due ragazzi erano stati affidati ad una comunità, ma dalla scorsa estate di loro si sono perse le tracce. Una storia controversa che lo scorso giugno aveva scosso l'opinione pubblica a retina. Dario, il più piccolo dei due fratelli, infatti, dopo essere stato affidato ad una comunità, era stato prelevato all'interno della scuola. Devono essere i miei, non me le risuccede certe cose, ma quell'altro non devono risuccede. Dentro le scuole non ci si va, anche se sono giustificati, necessari dentro le scuole, no. Dario il trasferimento in una struttura città di Castello, poi il riavvicinamento ad Arezzo ed infine la fuga dei due. Non è che l'ha perso lo Stato nelle forze dell'ordine, lo Stato nelle forze dell'ordine non ha perso proprio niente. L'accavallamento delle competenze nelle autorità giuridiche, vedi, c'è stato. A lanciare l'appello adesso alla prefettura di Arezzo, dopo aver riunito un tavolo di coordinamento per le persone scomparse, proseguono infatti senza sosta le indagini alla ricerca dei due minorenni. I due fratelli potrebbero trovarsi ancora ad Arezzo, continuano infatti a rincorrersi avvistamente le indiscrezioni. C'è addirittura chi sostiene di averli visti proprio assieme al padre. E no, con me no, con me, io ne so quante ne sa le forze dell'ordine, anche a me mi arriva messaggio di un amico, dice ho visto Filippo ieri, e io so che stanno bene. Commento, indosseranno, se dieci giorni fa c'erano almeno dieci, Arezzo, da qualche d'uno, se l'hanno rivisti anche dopo, vuol dire che alla ghiaccia non ci sono stati. Le segnalazioni attualmente sono al vaglio della polizia che segue il caso.